Vittorio Cecchigori vuole risposare l'ex moglierita Rusic, la confessione avvieni da me Vittorio Cecchigori vuole risposare l'ex moglierita Rusic. La confessione è arrivata avvieni da me, nel salotto di Caterina Balivo Il famoso produttore ha parlato della sua vita privata e professionale e non ha potuto non menzionare la madre dei suoi due figli, con la quale si è riavvicinato dopo l'ischemia che l'ha colpito nel 2017 I due oggi hanno un rapporto splendido che, a quanto pare, va al di là dell'amicizia Oggi sono single ma potrei sempre risposare mia moglie, ha dichiarato Cecchigori nello show di Rai 1 Sì, la risposerei subito. Però bisognerebbe chiedere prima lei, ha aggiunto l'ex compagno di Valeria Marini Vittorio Cecchigori e quelle coincidenze con Rita Rusic.Vittorio Cecchigori ha poi fatto notare alcune coincidenze nella sua vita e in quella di Rita Rusic Dopo il divorzio nessuno dei due si è risposato, ne ha avuto figli da altre persone, ha sottolineato l'ex presidente della Fiorentina Rita è l'unica donna che ho sposato nella mia vita. Quando ci siamo sposati, durante la funzione il prete mi ha sgridato perché ero un po' distratto Verdone e Montessano erano i miei testimoni e mentre stavo per sposarmi ho pensato di fare con loro un film Così è nata la pellicola 1 2 Carabinieri, che poi è stata un grande successo. Dal matrimonio con Rita sono nati due figli, Vittoria e Mario Vittoria vive negli Stati Uniti mentre Mario vive a Londra anche se viene spesso in Italia, ha detto l'erede di Mario Cecchigori Rita Rusic risponderà alla proposta di Vittorio Cecchigori Come risponderà Rita Rusic alla proposta di Vittorio Cecchigori? Al momento non è chiaro se la produttrice sia singola o impegnata con qualcuno Chi vedrà, vedrà Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like